Come scuola edile di Cuneo abbiamo collaborato con la regione Piemonte alla redazione del documento, quindi alla descrizione delle varie competenze e quindi al documento in generale. Per quanto riguarda i prossimi tre anni noi non abbiamo aderito alla sperimentazione, è aderito un'altra scuola edile di un'altra regione, noi abbiamo dato la disponibilità per il prossimo triennio a fare la sperimentazione con dei ragazzi dei nostri corsi e magari dei lavoratori delle imprese.